A Leeds nel Regno Unito c'è un ristorante davvero unico, si chiama Pay As You Feel e offre ai propri clienti un ottimo assortimento di cibi spazzatura e avanzi presi da altri locali, pub o supermercati. Attenzione però perché si mangia molto bene e i clienti sembrano alquanto soddisfatti sia della qualità dei piatti sul menu sia del conto. Secondo la FAO ogni anno nel cestino della spazzatura finiscono 1,4 miliardi di tonnellate di alimenti scartati e con essi anche 570 milioni di euro. Un terzo del cibo prodotto quindi viene buttato nel bidone, per questo motivo i gestori del locale inglese hanno pensato di voler porre un freno a tutto ciò ritrovando il valore di ogni piatto e facendo allo stesso tempo risparmiare i commensali. Insomma il ristorante più eticamente gustoso del Pay As You Feel non sembra tanto facile trovarlo.